Casa tasse case dopo il caos della Tari. Scatta la mossa dei comuni per cercare di rimediare agli errori costati pagamenti doppi ai contribuenti. Di fatto le amministrazioni hanno avviato in autotutela alcune delibere per il caso Tari limitando per i casi che possono essere considerati illegittimi. Mentre dal Ministero dell'Economia non arrivano comunicazioni. Lanci prende posizione. E cose scatano PR cedure autonome da parte dei comuni che andranno a correggere gli errori a carico dei contribuenti. I comuni hanno sempre delle riserve e noi pensiamo che per il passato possono pagare direttamente i rimborsi ai cittadini. Lo possono fare in automatico rimborsando direttamente i cittadini. Ha affermato Alan Cronos il Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Anci, Antonio De Caro sul caos della tassa rifiuti. Per ha aggiunto non vorremmo che qualcuno, in futuro, possa dire che il comune era obbligato dalla legge a far pagare tutto il servizio attraverso il gettito Tari e non poteva usare altri fondi visto che la legge prevede che il gettito della Tari deve essere uguale al costo del servizio. In n questo quadro c'è un problema ben più grave. La Tari finora non ha una sorta di regolamento specifico. Infatti si hanno normative che determinano nel dettaglio la Tarsu e successivamente la Tares. Dunque adesso si attende una circolare dal Ministero che possa definire in modo preciso gli interventi per porre rimedio ad un problema che grava da troppo tempo sulle tasche degli italiani. Altro su MSN. Fisco. Arrivano i chiarimenti del MEF sul caos Tari. ANSA. Riproduci nuovamente video. Zimbabwe. L&Cancelletto 39. ONU fa appello alla calma. End quote. La conservazione dei diritti fondamentali. End Cancelletto 39. Di vitale importanza. End quote. ANSA. Piogge torrenziali ad Atene. Danni e dieci morti autosommerse o incastrate. Fango e acqua alla periferia della capitale greca ANSA. End Cancelletto 39. Ammalarsi End Cancelletto 39. Di End Cancelletto 39. Amore contro i pregiudizi esce End Cancelletto 39. The Big Seekend Cancelletto 39. Commedia sulla storia vera dei due sceneggiatori ANSA. IMPOS TA ZION E NON attivo. HD HQSDLO. Sponsorizzato ottieni un buono di 200 spendibile per l'acquisto di un nuovo Surface di Microsoft. Scopri la promozione maggiore maggiore.